Questo programma è offerto da S.M.I. Sindacato medici italiani Media Partner U.M.A.T.E Abbigliamento e accessori di Castiglioni Roma Caramelle, la moda per tutte le donne Arnia, le scarpe artigianali Sulle ali della salute è una produzione Probe, operazioni marketing Si ringrazia, ristorante Simon's Bistrò Padova Grazie a tutti Buonasera Buonasera a tutti Ciao Stefano Grazie, grazie Grazie di applausi Bene arrivato Alessandra Bene arrivato anche tu Stefano Bene, bene Allora, ben ritrovati tutti quanti voi Qui ovviamente tutti i martedì siamo a tenervi compagnia Dalle 20 alle 21 a parlare di salute e di benessere Noi che siamo anche in diretta non solo Alessandra Anche nei social Assolutamente sì Siamo molto social Siamo molto social quest'anno Insomma seguiamo quella che è la tendenza Ricordatevi che tra l'altro il fatto di essere social quest'anno permette a molte persone che magari non riuscivano ad essere a casa per vedere la diretta perché erano presi anche dal lavoro di vederla diretta sulla pagina Facebook di Sulle ali della salute Bene, non solo ma anche nella pagina di Canal Italia quindi nel Youtube quindi siamo in diretta sia su Facebook che su Youtube ovviamente in tutta Italia sui canali di Canal Italia e rigorosamente anche su Sky 913 per tutta Europa Bene, abbiamo chiuso ovviamente la nostra divulgazione Abbiamo fatto una premessa giusto per ricordare che potete davvero trovarci e seguirci in mille modi E potete anche fare le vostre domande, questa è la prerogativa che da sempre ci contraddistingue, fare le domande ai nostri ospiti Avete o il numero di telefono lo 049 89 82 301 Oppure potete mandare un messaggio al nostro numero Whatsapp che è il 348 23 00 765 Bene, io ne approfitto anche per salutare Giuseppe, tutta la troupe del giornale La Piazza, tutto il Veneto mi pare E' un settimanale se non vado errato e quindi di conseguenza siamo qui pronti anche oggi a portare un nuovo argomento Sulla piazza Sulla piazza E allora ricordiamo subito quello è l'argomento di questa sera, l'infedeva e la presso terapia E andiamo a conoscere gli ospiti di questa sera Inizio dal dottor Matteo Zennaro, ingegnere biomedico CEO di ITEC Medical Division Benvenuto Buonasera, ben ritrovato Saluto e do il benvenuto al dottor Fabrizio Gervasoni, fisiatra presso Unità Operativa di Reabilitazione Specialistica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, bentornato Grazie, buonasera a voi E do il bentornato al dottor Giuseppe Camborese, specialista in angiologia, azienda ospedaliera di Padova Buonasera, buonasera gli ospedatori Buonasera, benvenuti Allora, è un argomento, vero Alessandra, che abbiamo già trattato l'infedema Però i nostri telespettatori hanno voluto e ci hanno scritto di poter ritornare a parlare di questa problematica Allora, andiamo a vedere, ovviamente, ti passo davanti Alessandra Andiamo a parlare ovviamente di cosa è l'infedema Allora, dottor Camporese L'infedema è praticamente... intanto comincerei a dire che cos'è la linfa Prima di parlare di l'infedema La linfa è un liquido che viene drenato dagli spazi intestiziali E viene richiamato appunto dai tessuti Ed è composto da un insieme di proteine, lipidi, acqua, appunto Sostanze che vengono drenate appunto dai tessuti e da cellule Soprattutto della serie bianca Abbiamo il supporto anche di questa slide qui così insieme andiamo a vedere Poi anche con il dottor Gervasoni possiamo commentare ancora Questo è tutto il nostro sistema linfatico Esatto Che è bello Questo è il nostro sistema linfatico Sono tutti questi vasi Perché all'interno del nostro corpo non abbiamo solo vene arterie Ma abbiamo anche questi linfatici Che sono dei vasi distribuiti come vedete nell'immagine in tutto il corpo E servono proprio a fare quello che il collega poco fa stava raccontando Quindi drenare tutta la componente fluida che imbeve i nostri tessuti E garantire una corretta mantenimento dell'idratazione tessutale Ecco quindi quando questo sistema ha dei problemi Per alcune situazioni che oggi andremo a vedere e discutere Si può creare un linfedema e quindi generare alcune problematiche Che oggi vi racconteremo Bene Allora è importante Andiamo sulle altre slide Alessandra Che così prendiamo Non questa, quelle altre No, no, usciamo, usciamo un attimo Andiamo sulle altre Ok Praticamente andiamo a vedere l'incidenza Allora la definizione intanto di questo problema dell'infedema Allora la definizione Vediamo un aumento visibile e clinicamente valutabile Delle dimensioni di un distretto corporeo Da accumulo di linfa nell'interstizio Scopo del trattamento è di riportarlo allo stadio zero O stadio di latenza Libro da segni e sintomi Questo è quello che praticamente Va bene Allora Questa è la definizione dell'infedema Allora se volete aggiungere qualcosa Assolutamente sì Con piacere Nella definizione di linfedema Oltre a questa situazione di accumulo di liquidi A livello prevalentemente degli arti Questo è associato a delle problematiche funzionali Infatti l'arto quando è gonfio Pieno di liquido Diventa pesante Più facilmente affaticabile E può presentare alcune problematiche Può presentare infiammazioni locali Infezioni locali E quindi chiaramente Non trattare un linfedema E quindi non riportarlo a uno stadio Che lei correttamente ha definito stadio zero Quindi asciugarlo di tutti questi fluidi Può determinare le problematiche anche severe Quindi il trattamento è proprio importante Sede Dottor Camporese Ma è facile come si diceva prima Riportare allo stadio zero O no? Innanzitutto bisogna distinguere due situazioni ben precise Quando si parla di insufficienza linfatica Mi permetto di partire da questo concetto Perché se noi abbiamo un danno anatomico Dei vasi che trasportano la linfa E allora lì parliamo di linfedema Se invece il danno non c'è Ed è un sovraccarico di produzione di linfa Per varie situazioni L'infiammazione come diceva il collega Oppure anche cause parafisiologiche Come l'utilizzo di alcuni farmaci Uno per tutti i calcio antagonisti Che sono dei generatori di edema A livello degli arti inferiori Allora quella è un'insufficienza funzionale Allora lì si parla di linfostasi Sono due concetti Se vogliamo Una differenza proprio semantica Di terminologie Ma fanno la differenza Perché uno è un danno anatomico L'altro è una situazione funzionale La linfostasi è regredibile Perché se si modifica La terapia farmacologica Per la pressione Tipo il calcio antagonista O le situazioni che hanno creato L'infiammazione Queste situazioni qui Può ritornare la situazione Al tempo iniziale Quindi alla situazione zero Se invece il danno anatomico è permanente Purtroppo lì non si può tornare indietro La stessa linfostasi Se mantenuta del tempo E non corretta Farmacologicamente O con delle misure fisiche Può degenerare in disfunzione meccanica E quindi portare all'infedema Lei parlava pronto Delle terapie con i calcio antagonisti Ma quanto gli calcio antagonisti In questo caso Influenzano Sono uno dei farmaci Anche i nitratti Possono portare Ad una generazione di edema Gli arti inferiori Comunque i calcio antagonisti L'amlodipina per DNE1 Possono generare Con una discreta frequenza Anzi direi Quasi la totalità dei pazienti Che giungono alla nostra osservazione Sono perdianti differenziali Il paziente che viene con l'edema Mono Di solito quando si usa il farmaco È bilaterale Però per motivi meccanici L'edema può essere più rappresentata In un altro piuttosto che un altro E allora magari venga l'osservazione Per una diagnosi differenziale Con una sospetta trombosi Che poi il paziente non ha Perché ha l'utilizzo di questi farmaci Guardiamo assieme Questa prossima slide Perché ci danno È una slide che ci dà dei numeri È molto interessante Devo dire Allora La diffusione dell'infedema Questi sono dati Della OMS L'invenzione mondiale della sanità Dottor Gervasonina Guardiamola assieme E commentiamola assieme Allora Sì sì Sono numeri importanti Vedete circa 300 milioni di casi del mondo 150 milioni sono gli infedemi primitivi Questo significa che ci sono delle cause genetiche Che determinano gli infedemi Quindi i primitivi Praticamente da quando si nasce? Possono insorgere già dall'età infantile Quindi già nel bambino E quindi diciamo Sono derivanti da una causa genetica Congenita Noi molto spesso invece vediamo gli infedemi secondari Secondari a cosa? Spesso purtroppo problematiche oncologiche Tumorali Quindi chi ad esempio ha eseguito un intervento di chirurgia Per una neoplasia mammaria Oppure chirurgia per un tumore della prostata Per esempio Può sviluppare delle situazioni di linfedema In questo caso secondario proprio alla chirurgia Perché in questi interventi Molto spesso è richiesto di toccare l'infonodi Stiamo parlando di prostata totale Esatto Quando si fa un intervento importante Che interessa i linfonodi Esatto Quando interessa i linfonodi soprattutto Che sono quei piccoli rubinetti Che raccolgono tutti quei vasi verdi Che abbiamo visto prima Quando quelle strutture vengono intaccate dalla chirurgia Ecco che chiaramente il danno anatomico Di cui parlava il collega Il danno della struttura è definitivo Per questo il linfedema in quei casi È cronico e progressivo Per cui il trattamento Soprattutto precoce È assolutamente necessario Vediamo poi Riportiamo questa slide qui Vedi 70 milioni di parassitosi Di cosa stiamo parlando? Sì Diciamo che nel nostro caso Numericamente non le osserviamo Anche perché è diffusione a aree tropicali Esatto Però in altre aree del mondo È possibile che alcuni tipi Di microrganismi O comunque di altre problematiche Possono determinare l'infedema Ma non è il caso dei nostri ascoltatori Allora 10 milioni all'ultima riga 10 milioni da disuso Sì Come appunto detto poco fa Anche le problematiche Non correlate a una storia oncologica Ma all'inutilizzo All'immobilità A ridotto esercizio Possono dare in una prima istanza Questo gonfiore alle gambe La linfostasi O degli edemi E poi chiaramente Nel lungo periodo Questo accumulo di liquido Può andare a compromettere La funzionalità dei vasi E quindi in generale Il linfedema Di cui stiamo parlando Qui dottor Camporese Quando il sistema linfatico Come si diceva prima Per le cause più svariate Non riesce più a svolgere L'attività fisiologica Si genera L'edema linfatico Esatto Giusto? Eh sì È proprio uno squilibrio Fra la capacità del sistema Dei vasi linfatici Di drenare I tessuti Da questo liquido In fine Che quando viene prodotto in eccesso Si accumula nel punto negli spazi Generando il gonfiore dell'arto Andiamo a vedere questa slide Che è molto interessante È molto significativa Devo dire Perché vediamo un po' lo stadio No? Quindi la fase La fase 1 La 2 La 3 La 4 Per poi arrivare E questo è Quindi lo dico al fisiatra Questi stadi qui In quanto tempo Purtroppo si raggiunge Arrivano dall'1 alla 4 Allora Certamente Ci sono delle variabili individuali Ma la cosa che più influenza Questa evoluzione È la mancanza di trattamento Quindi se noi riusciamo A fare una diagnosi precoce A identificare il paziente Quando si trova ancora Nella fase 0 O nella fase 1 Dove vedete l'arto Ha ancora la sua forma È ancora trattabile Ecco Se lo intercettiamo O la intercettiamo La nostra paziente In quel momento Riusciamo a evitare Che evolva Verso situazioni Più drammatiche Più difficilmente trattabili Per questo È assolutamente importante Un momento come questo In cui informiamo Pazienti Che hanno subito Interventi chirurgici Di cui abbiamo parlato Poco fa Che facciano una valutazione Di questo tipo Se avvertono l'arto gonfio O se notano qualcosa Di diverso A un braccio O a una gamba Perché il linfedema Che molto spesso È poco conosciuto Se trattato precocemente Non evolve E quindi riusciamo A controllarlo Rimane una patologia cronica Ma curabile In questo caso qui Dove stiamo parlando Di fase 1 Fase 2 Chiaramente Lei si occupa Di Presso terapia Certo E la presso terapia Forse quello che diceva Anche il dottor Gervasoni È Il primo approccio Per Dove in una fase Ancora Diciamo così Non conclamata Può essere di grande aiuto No? Assolutamente sì Beh diciamo Che cos'è una Presso terapia Che cos'è un trattamento Di presso terapia La presso terapia È una tecnica Terapeutica Non invasiva Questa è Per esempio Quella che ci ha portato È un esempio Esatto Di presso terapia Questo è un dispositivo Domiciliare Quindi poi Diremo Diremo due parole Anche su questo Di facilissimo utilizzo Comunque Di facilissimo utilizzo Assolutamente Sempre seguendo Quelle che sono Le prescrizioni Che eventualmente Vengono date Dal medico curante O dallo specialista Come abbiamo visto E ovviamente Osservando Quelle che sono Anche le indicazioni Che il fabbricante Dà sul Sul manuale di utilizzo La presso terapia È un dispositivo Molto semplice È una tecnica Come dicevo Non invasiva Che permette Che va Ad aiutare Tutte quelle situazioni Che Di cui abbiamo Già accennato Di cui abbiamo parlato Per sostanzialmente Aiutare La circolazione Linfatica Venosa E arteriosa Quindi va Esattamente In un'ottica Di questo tipo Di trattamento Allora Io vedo una macchina Che comunque Ha delle dimensioni Più che accettabili Ma ci sono altre Presso terapie Molto più importanti Allora Le presso terapie Le presso terapie Qui abbiamo un esempio Di presso terapia domiciliare Quindi di un dispositivo Diciamo Molto semplice Nel suo utilizzo Si va a regolare Pressione e tempo Che sono i due parametri Fondamentali Di un trattamento Di presso terapia Parametri che vengono Ovviamente Indicati dal fabbricante Ma soprattutto In un percorso terapeutico Ovviamente Dallo specialista Che è in carico Il paziente Si utilizzano Degli applicatori Qui ne abbiamo Sì sono delle Gambali Questi sono dei gambali Esattamente Che vengono posizionati In questo caso Agli arti inferiori Ma esistono Per l'arto superiore Piuttosto che Per la zona addominale I dispositivi Possono essere Domiciliari Quindi A semplice utilizzo Del paziente A casa Nel proprio percorso Terapeutico Piuttosto che Professionali A più camere Qui partiamo Dalle quattro camere Che sono Che differenza c'è Allora Le camere Sono quelle Che sostanzialmente Compongono Riprendete il gambale Questo Praticamente Allora Questo è un gambale A quattro camere Vediamo Queste sono le camere Esattamente Qui colleghiamo i tubi La pressoterapia È sostanzialmente Un compressore Che Insuffla Aria Nelle camere Che vengono Gonfiate Con una pressione Stabilita Indicata Per un tempo Stabilito Creando Una compressione In questo caso Nel caso Di dispositivi Domiciliari Detta Disto prossimale Quindi la compressione Avviene In questo caso Dal piede Verso Il centro del corpo Proprio per favorire Quello che è Il ritorno Linfatico Piuttosto che Venoso Il drenaggio Esistono A più camere Quindi avremo Più settori 8 12 Anche più camere Chiaramente Un sezionamento Maggiore Delle camere Permette una compressione Più Più definita Migliore? Posso dire migliore? Ma allora Non direi migliore Sicuramente più Precisa E più definita Nell'arco Del ciclo Di trattamento Però diciamo Che trattamenti Comunque con dispositivi A quattro camere Sono a livello domiciliare Sicuramente Più che efficace Mentre il dottor Zennaro Sta comunque Parlando Guardiamo questa slide Qui Che è un po' Ecco È l'antagonista L'antagonista Della pressoterapia Il classico Massaggio Allora In realtà Non è l'antagonista Ma è un elemento Che si combina Molto bene Alla pressoterapia Infatti I nostri piani Di trattamento Prevedono Il linfodrenaggio manuale La pressoterapia Subito dopo Il linfodrenaggio manuale E poi anche Attività di bendaggio O compressione Quindi La pressoterapia Non è in contrapposizione All'infodrenaggio manuale Tanto che I nostri fisioterapisti Quando eseguono Questo tipo di procedura Molto spesso Preparano anche I tessuti E i linfonodi Poi anche La pressoterapia Quindi Preparare il paziente Con tecniche manuali Come quelle che vedete Nell'immagine O comunque Con un lavoro di massaggio Da parte dei fisioterapisti Può favorire poi L'efficacia Della pressoterapia Quindi Quindi si parte Sempre con La Allora Non necessariamente Dipende dai casi In alcuni casi È possibile Iniziare già A lavorare Con la pressoterapia Domiciliare Quindi in casi Molto precoci Dove c'è solo Una componente Linfatica E si riesce A comunque Drenare facilmente Anche senza Preparare i tessuti In casi invece Un po' più complessi Previa prescrizione medica Si inizia con un massaggio Con un lavoro manuale Poi Pressoterapia E poi la parte Di bendaggio Di calze compressive Anche a livello Antiestetico Molto basico Essendo donna Bene o male Capitato di fare Dei cicli Di pressoterapia Proprio per Perché avevi Una lieve ridenzione Per cui Alla fine È stata davvero In maniera Certo Certo Allora È arrivato subito Un messaggio Abbiamo comunque La pausa Leggiamo pure il messaggio Dai E rispondiamo dopo Certo Allora Buonasera Sono Margherita Anche mio figlio È stato diagnosticato La disfunzione Del sistema linfatico Agli arti inferiori Ha cominciato Con perdita Di liquido Seroso Bianco Procurando Delle ulcere Visto dal dermatologo Richiesto Bendaggio Domicilio Per risanare Le ulcere Che eseguo io Con buoni risultati Ulcere Rimargirate In accordo Nel periodo estivo Per pericolo Punture Insetti Per far partire Il bendaggio Gli indofrenanti Da specialisti Mio figlio È obeso grave Più disabile Al 100% Grazie Per l'informazione Bene Grazie di questa Bellissima domanda Molto precisa E la risposta Dopo la pubblicità A tra poco Salus Water La soluzione migliore Per un'acqua di qualità Il Taupatch È un dispositivo medico Che migliora La postura È il movimento Agendo direttamente Sul sistema proprio cettivo Un metodo rapido Efficace Ed economico Per darti sostegno Nella vita Di tutti i giorni E che ti può anche aiutare A conservare a lungo Nel tempo I risultati Delle altre terapie Exial è indicato per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale per te e il tuo bambino Con la microincapsulazione delle cellule probiotiche garantiamo una maggior stabilità del prodotto ed una maggior sopravvivenza al transito intestinale. Exial è privo di allergeni, senza glutine e lattosio, per il benessere del tuo intestino. Exial, la tecnologia che avanza. Da Exifarma, in farmacia. Con la Magneto, combatti dolori muscoloscheletrici. E-Tech Medical Division, il tuo aiuto contro il dolore, comodamente a casa tua. Il futuro di molti bambini malati è ancora tutto da scrivere. Aiutaci anche tu, sostenendo la ricerca pediatrica. Basta una firma, dona il tuo 5x1000 alla Fondazione Città della Speranza. Alessandra, questa sera ci facciamo aiutare da loro. Quindi l'importanza di donare. Quindi i nostri figli, quanto riusciamo a fare per poter fare in modo che la nostra ricerca arrivi a dei punti importanti. Sappiate solo che anni che furono, fatto 100, 20... Quando veniva diagnosticata una leucemia nel pregiovenile... Si riusciva a risolvere una situazione. Invece adesso la situazione è molto migliorata, grazie anche alla Città della Speranza. vero? assolutamente quindi cosa dobbiamo fare? assolutamente donare bravo, grazie donare così si può andare a fare anche tanta ricerca per cui avete andato sul sito della città della speranza così trovate diversi modi per donare siamo prossimi Stefano anche alla Pasqua per cui potremmo pensare quest'anno di andare a utilizzare a mangiare una colomba pasquale diversa magari quella della città della speranza bene, allora tornando alla domanda che ha letto Alessandra la signora Margherita allora dottor Camporese è una domanda lunga complessa ma molto dettagliata assolutamente si la domanda è complessa è complessa la risposta perché qui ci sono più componenti diciamo così che interagiscono contemporaneamente le comorbidità mi pare di avere intuito che il paziente sia obeso, che sia disabile bisognerebbe vedere che grado di disabilità ha il paziente ma a prescindere da questo già queste due situazioni contribuiscono alla genesi dell'edema la presenza di lesioni cutanee è una complicazione è una complicanza che deve essere gestita con estrema accuratezza per evitare che poi la situazione evolva in senso peggiorativo con delle situazioni infettive pericolose io ho capito che la mamma di questo ragazzo gestisce a domicilio la terapia delle lesioni compatibilmente con la possibilità di essere trasportato in una sede protetta io sarei più propenso che questa gestione delle lesioni venga fatta in ambulatori specialistici dove ci sono anche dei presidi avanzati delle medicazioni avanzate dei bendaggi fatti con il massimo rispetto della signora però bendaggio fatto a regola d'arte per un linfedema è diverso che gestire a domicilio questa cosa fermo restando appunto che il paziente sia trasportabile però ecco io sarei più per l'ambiente protetto che per la gestione domiciliare ove non fosse possibile ci sono sempre distretti che possono aiutare comunque credo che questo approccio terapeutico è stato suggerito chiaramente certamente e sottolineo che la signora ha evidenziato un aspetto molto importante per tutti i nostri pazienti la cautela e la protezione nei confronti delle punture di insetto sembra una cosa trascurabile è vero banale invece ma nelle pazienti che hanno subito per esempio una chirurgia al seno avere cura dell'arto dallo stesso lato del seno operato è estremamente importante cura significa proteggersi dalle punture di insetto evitare sovraccarichi quando si fa giardinaggio utilizzare dei guanti per esempio cioè evitare tutte quelle situazioni per cui dei microorganismi possono superare la cute perché in quel caso linfedema può facilitare l'insorgenza di infezione per esempio noi sconsigliamo di fare prelievi sull'arto esposto all'infedema e quindi preferire l'arto controlaterale l'altro quindi proteggere un pochino il braccio tutelarlo soprattutto nei mesi successivi all'intervento chirurgico e all'intervento sui linfonodi questo perché evitiamo che il linfedema si presenti evitiamo che si formino infezioni e quindi evitiamo problematiche anche più severe che poi è difficile da gestire quindi grazie alla signora per questo appunto specifico che ci aiuta anche per altre nostre no grazie a voi che date questi anche suggerimenti insomma la nostra è un servizio che facciamo tutti i martedì in diretta ed è fondamentale ovviamente sentirvi e sentire da voi quello che si può e quello che non si può fare chiaramente allora quanti tipi di linfedema si riconoscono allora andiamo a vedere questa slide qui quindi quello che si parlava anche prima vero dottor Camporese si parlava anche di quegli stadi quelle forme precoci presenti dalla nascita giustamente vediamo che questo bambino poverino giustamente il dottor Gervasoni prima aveva già fatto cenno alla possibilità fortunatamente non molto frequente di che ci siano degli edemi già presenti alla nascita o comunque che ci sia una predisposizione genetica questa è genetica questa qui comunque assolutamente inizialmente è genetica perché magari non sono presenti alla nascita ma se la genetica del paziente predispone a questa situazione l'infedema si può sviluppare anche nei decenni successivi perché c'è una predisposizione genetica a in pieno benessere senza nessuna motivazione diversamente le forme secondarie ne abbiamo già anticipate alcune alcune sono comuni per gli arti superiori e gli arti inferiori tipo l'obesità, la radioterapia per i distretti mammella piuttosto che prostata o comunque della sfera pelvica e poi ci sono delle peculiarità per distretto per esempio l'arto superiore può avere un'infedema dove ci sono i posizionamenti dei device cardiologici pacemaker piuttosto che difibrillatori perché vengono posizionati in fossa sottoclaveare e a livello della fossa sottoclaveare decorre la vena succlavia la vena succlavia in parte può essere compressa e quindi deve generare un'edema da insufficienza venosa o comunque da ritardato e ostacolato del flusso venoso cosa che invece si può manifestare a livello degli arti inferiori per l'insufficienza venosa cronica o come manifestazione di una trombosi perché alla fin fine l'ingorgo della vena ostacola il ritorno venoso crea un'ipertensione periferica e il liquido da qualche parte si deve andare quel rubinetto che parlava prima del dottor Gervasoni potrebbe aprirsi assolutamente bisogna trovare delle vie per facilitare questo tipo di drema abbiamo una telefonata, pronto? è pronto, buonasera buonasera, benvenuta da dove ci chiama e come si chiama? io mi chiamo Brugioni Giancarlo e telefono da Genova ma signor Giancarlo benvenuto, prego faccia pure la sua domanda sempre, io ho le ulcere e l'infedema sì e sto prendendo del grenadol faccio le medicazioni tre giorni alla settimana e mi hanno dato a fare delle punture benzine penicilline da 12.000 senta lei, quanti anni ha se mi permetto? io ho 80 va bene, perfetto e lei vuole una conferma se tutto quello che sta facendo è corretto? può andar bene giusto? sì, volevo una conferma questo grenadolo va bene e quelle punture che mi hanno detto da fare va bene, adesso la rassicureremo grazie grazie, grazie allora Dottor Gervasoni sì, chiaramente non possiamo dare conferme cliniche senza vedere il paziente però certamente un paziente che ha delle ulcere deve essere valutato da un medico i colleghi hanno probabilmente ravvisato la necessità di impostare una terapia antibiotica e questo è proprio uno degli aspetti molto importanti ma forse per le ulcere le ulcere come dicevamo poco fa possono essere un tramite per microorganismi che trovano nell'infedema un terreno fertile per proliferare quindi se un arto sano subisce un'ulcerazione e ha poi un'evoluzione favorevole nell'infedema è molto più difficile che questa si ripari, che guarisca proprio perché c'è una stasi di tutta questa componente fluida per cui lì è importante poi impostare lunghe terapie antibiotiche e fare trattamenti di questo tipo una cosa importante noi oggi abbiamo parlato di linfodrenaggio manuale, di presso terapia la presenza di ulcere, di infezioni acute controindicano entrambi questi approcci quindi in presenza di arrossamenti locali, di infezioni, di lesioni dell'acute oppure di siero, quindi avvertire proprio l'arto umido e bagnato ecco in quei casi assolutamente valutazione medica il più rapidamente possibile e sospendere tutti questi trattamenti perché in quel caso sono controindicati anche se poi abbiamo visto che sono terapie molto sicure e utilizzabili in molti casi mi posso permettere di aggiungere una cosa che non è trascurabile c'è da sperare che l'antibiotico che sia stato prescritto sia stato prescritto su una base di un tampone delle lesioni perché l'antibiotico a largo spettro come la penicillina può essere ma anche non essere sufficiente se il germe è resistente a quel tipo di antibiotico lo dico perché fare una terapia antibiotica mirata con l'antibiotico giusto che va valutato con l'antibiogramma ci permette di andare a bersaglio per il germe responsabile e non creare una situazione di antibiotico resistenza di maluso degli antibiotici perché poi si può creare e molto spesso sono mal usati assolutamente sì se ne abusa anche troppo anche un abuso brava sì no stavo dicendo dottor Zennaro molto spesso diciamo che un po' l'appresso in questo caso è anche un'ottima prevenzione quindi lei prima mi menzionava io quando vado per le fiere sto in piedi 10-12 ore al giorno quando arrivo a casa e poter avvalermi di un dispositivo del genere è anche piacevole assolutamente è un dispositivo che appunto abbiamo visto essere utilissimo è largamente utilizzato in presenza di patologia ma è assolutamente altrettanto diciamo efficace o comunque è suggerito in tutte quelle situazioni in cui non si ha una patologia ma si ha semplicemente la gamba pesante quella sensazione insomma comunque di sofferenza un po' degli arti inferiori tipicamente c'è la patologia delle gambe stacche sì è una patologia assolutamente stare molte ore in piedi se volentieri io e anche le mie colleghe sono tante ore in piedi con i campi facciamo vedere una slide facciamo vedere la slide vuoi far vedere questa tante volte no non è questa non è questa ma era questa slide qui nelle sue gambe è gambe stanche è gambe stanche vero Alessandra beh no vedi però adesso in questo gioco io stessa la utilizzo spesso la prostoterapia proprio per questo motivo perché effettivamente va a drenare e ti senti meglio assolutamente un piccolo problema tra virgolette penso invece c'è chi ha problemi seri quanto possa fare abbiamo visto prima adesso Giuliano possiamo mettere anche questa slide qui che hai puntato vediamo qui abbiamo parlato prima di bambino quindi bambino molto piccolo questa è in età puberale in pratica si vede una discrepanza tra una gambe e l'altra una cosa che ci capita di vedere è ad esempio linfedema post-traumatico a volte abbiamo alcuni pazienti in trattamento prima si parlava dell'insorgenza di linfedema da non uso l'arto non utilizzato un trauma e questo ci capita anche purtroppo in alcuni giovani adolescenti l'arto non utilizzato quando il giovane subisce un trauma sportivo durante l'attività motoria deve immobilizzarlo per un certo periodo magari in un tutore o in un gesso è possibile che poi insorga certamente edema quindi la componente di stasi normale non sono forse quelle forme di trombosi dottor Camporese anche no? nelle forme giovanili più che la trombosi che è molto rara ed è limitata a determinati settori prevalentemente neoplastici quindi con l'uso di catetili eccetera nell'indianosi differenziale soprattutto nei bambini molto piccoli nei nonati eccetera una simmetria dell'arto con l'infedema c'entrano le malformazioni arteriovenose quindi lì forse sarebbe più utile escludere la presenza di malformazioni congenite di solito sono angiomi cavernosi quindi perché i piani si vedono che sono quelle discromie quelle alterazioni delle famose voglie no? quelle che si vedono solo affrici gli angiomi cavernosi invece sono le comunicazioni fra l'arteria avvenne dentro i muscoli all'interno che non sono visibili se non con una simmetria dell'arto e allora si va proprio oggettivamente a verificare con un semplice ecodopero una semplice ecografia la presenza o meno di queste malformazioni una volta esclusa si può pensare sicuramente all'infedema di tipo congenito bene abbiamo un'altra telefonata pronto? sì sì buonasera benvenuto da dove ci chiama e come si chiama? mi chiamo Gianfraco telefono da Bolzano e sento la vostra trasmissione molto interessante grazie ho fatto un massacrisoterapista ho fatto il massacratore di un centro di tumore e ho fatto anche dei lipotermati sì quindi il dottore no un piccolo suggerimento che che non ha che non ha sottolineato non ha descritto bene fino al fondo quando c'è una delle punture di insetto un piccolo facendo un manicure avere sempre portato di mano a rumicina questo l'ho imparato alla scuola e mi è stato sempre utile bene grazie grazie e continua a seguirci beh sono quelle puntualizzazioni certamente è importante la persona che ha telefonato il professionista che ha telefonato ha sottolineato l'importanza della formazione per affrontare questo tipo di problematiche quindi i fisioterapisti che affrontano un paziente con linfedema devono essere adeguatamente formati sia per la prevenzione di queste problematiche ma anche le modalità del trattamento quindi non ci si improvvisa ecco nel massaggio di un arto linfedematoso ma bisogna seguire dei corsi specifici su queste problematiche che poi insegnano anche alcune attenzioni particolari nella tutela dell'acute e dell'arto quindi assolutamente importante la formazione ma volevo appunto sottolineare anche questo amico di Bolzano che il fatto di avere anche sotto mano dei prodotti specifici perché nel caso di puntura anche di una manicura ha detto no fatta male sì sì l'aeromicina ma sì certo ha ragione chiaro diciamo che devono avere qualche precauzione in più rispetto ad altri soggetti certo allora andiamo siamo quasi è il tempo vola questa sera sì è vero allora ricordiamo i nostri numeri di telefono ovviamente 049 89 82 301 è il numero per fare le vostre domande e intervenire in diretto oppure potete mandare i vostri messaggi al 348 2300 765 arrivati a questo punto break ma torniamo subito subito talus water la soluzione migliore per un'acqua di qualità il tau patch è un dispositivo medico che migliora la postura e il movimento agendo direttamente sul sistema proprio oggettivo un metodo rapido efficace ed economico per darti sostegno nella vita di tutti i giorni e che ti può anche aiutare a conservare a lungo nel tempo i risultati delle altre terapie grazie a tutti grazie a tutti Exial è indicato per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale per te e il tuo bambino. Con la microincapsulazione delle cellule probiotiche garantiamo una maggior stabilità del prodotto ed una maggior sopravvivenza al transito intestinale. Exial è privo di allergeni, senza glutine e lattosio per il benessere del tuo intestino. Exial, la tecnologia che avanza. Da Exifarma, in farmacia. Grazie a tutti. Con la Magneto combatti i dolori muscoloscheletrici. ITEC Medical Division, il tuo aiuto contro il dolore, comodamente a casa tua. Ritorniamo in diretta come sempre qui a Canal Italia dalle 20 alle 21, a Canal Italia il martedì e ovviamente abbiamo anche la replica del 121. Il 121 o la domenica mattina dalle 8 alle 9. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo con questa, proseguiamo con questa slide qui. Abbiamo visto la fase neonata del neonato, poi l'adolescente. Quindi intorno ai 30 anni, anche qui vediamo un progressivo aumento ovviamente di questo problema, quindi un arto che tende ovviamente a essere più diverso dall'altro. Una cosa che mi interessa, ma perché in queste forme, diciamo così, un po' congenite, ma perché solamente una parte e non su tutte e due? Eh, dottor Camporese? Questa è una domanda molto difficile. Che vi fate anche voi. Questa è una domanda molto difficile. Lì è, d'altronde, la situazione della genetica, come si diceva, come la diapositiva dimostrava, tardivo, quindi fa parte di quelle situazioni in cui si possono manifestare decenni dopo la nascita. No, per cui il perché si sviluppi solo da una parte, onestamente non ha una spiegazione se non quella della genetica, perché il sistema linfatico è sempre la stessa parte o cambia? Il sistema linfatico è sempre la stessa parte? No, no, tranquillamente destra o sinistra, arto superiore, arto inferiore, ma ripeto, non c'è una giustizia, una spiegazione anatomica. Linfatico, come abbiamo visto prima, è distribuito in tutto il nostro corpo, no? Però un arto, un lato, piuttosto dall'altro. È il motivo del, non c'è per esempio, per fare una similitudine, se mi venisse la trombose, non avendo nessun fattore di rischio, mi viene la trombose all'arte inferiore sinistro, perché? Se non ho un gesso, un trauma o qualcosa, o un intervento, mi viene l'arte sinistra e poi, come spesso succede, batte sempre sullo stesso, adesso la lingua batte dal dente a duole, per cui, sullo stesso lato, perché è quello più predisposto per storia naturale a sviluppare le recidive. Certo. Non c'è una spiegazione fisiologica, non so se anatomicamente il collega ha qualcosa da aggiungere, ma non credo, insomma. No, ecco, dal punto di vista linfatico, certamente il collega ha dato una spiegazione assolutamente puntuale. C'è l'aspetto biomeccanico che possiamo considerare, quindi come appoggiamo il piede al suolo, qual è l'utilizzo dell'arto, quindi sulla base di una predisposizione genetica congenita, chiaramente alterazioni biomeccaniche proprio degli arti, che queste sì, possono essere asimmetriche, possono favorire alcune problematiche su un altro. Sui secondari sicuramente sì, sui congeniti no, ma sui secondari sicuramente sì. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, benvenuto, da dove ci chiama e come si chiama? Giorgio Chiara, telefono da Proigi di Toino. Benvenuto, prego, faccio pure la sua domanda. Senta, io sei mesi fa mi è venuto un infedema al piede e tutt'oggi sono passati sei mesi e questo piede purtroppo è sempre uguale, nel senso che non c'è stato nessun miglioramento. Mi hanno fatto dell'infiltrazione di un antifiammatorio all'ospedale dove io abito, però il problema è che comunque questo piede, diciamo che quando vado a dormire, lui è sempre uguale. Invece durante il giorno che cammino questo piede mi viene gonfio. E loro volevo sapere qualcosa che bisogna fare, cosa che bisognerebbe fare per non farmi crearmi questo problema. Grazie, molto gentile. Senta una cosa, ma secondo lei perché è venuto l'infedema? Quale è la causa? Allora, allora... Prego, prego. Allora, mi hanno detto che è causato da un trauma. Mi hanno detto così all'ospedale di Torino che è causato da questa cosa. Ma è vero, ha avuto un trauma lei? No, perché allora io anni indietro mi era scappata la motosega, mi ero tagliato leggermente il piede. Però non credo che sia quello perché il piede comunque è intero. Certo, certo, certo. È solo quello. Bene, grazie, molto gentile. Grazie. Allora, può per esempio in questo caso qualcosa che è successo anni che furono e magari uno dice no, assolutamente no, perché poi non ha avuto problemi, col passare del tempo può affluire? Allora, dal mio punto di vista, al di là del fatto posturale di cui si diceva poco fa, bisogna sempre vedere che il paziente carichi in maniera ottimale e simmetrica il peso corporeo, altrimenti subentra una situazione di alterato scarico della suola venosa del plantare. Al di là di questo, perché no? Mi pare di aver capito che abbia avuto un trauma con la motosega, per cui il fatto di aver avuto... Anni, anni che furono. Può aver interrotto dei vasi linfatici. Il piede è molto ricco di vasi linfatici, inizia tutto da lì praticamente, per cui, perché no? Il fatto di aver avuto un'interruzione anche parziale dei vasi linfatici, quindi alterare il ritorno linfatico in questo modo, può aver contribuito nel tempo, perché chiaramente, come si diceva prima, è una discrepanza fra capacità di drenare i liquidi dei tessuti e volume di linfo prodotto. Se qui c'è un'interruzione... Aggiungo un altro elemento a queste giuste considerazioni, che è la possibile insorgenza di una cicatrice, no? Quindi un esito cicatriziale, una cicatrice che interessa il sottocute, quella zona dopo un trauma così importante, magari nei primi anni dopo il trauma, può non generare problematiche linfatiche, ma con l'invecchiamento, con la disidratazione anche tessutale, questa cicatrice può cambiare la sua forma, essere retraente, andare a interessare altri vasi linfatici, e quindi è una componente che può favorire l'insorgenza. Un messaggio per il paziente, chiaramente questo tipo di linfedema, abbiamo detto che può essere una problematica cronica, quindi che può accompagnarci per molto tempo, anche per tutta la vita, ma è curabile. In questo caso, per esempio, stiamo parlando di un piede, ho capito che forse non è una cosa così eccessiva, però un po' di fastidio senza toglielo dare. Cosa si fa? Assolutamente sì, i fastidi possono essere diversi, il piede è più gonfio, si pensi alle calzature, al dolore nella quotidianità, eccetera. Dopo un inquadramento medico, qui si fa tutta quella serie di trattamenti di cui abbiamo parlato. L'infodrenaggio manuale, presso terapia sequenziale, quindi inserita in un percorso, in questo caso prescritto, che noi chiamiamo progetto riabilitativo individuale, ma significa iniziamo col lavoro col fisioterapista, usiamo la presso terapia e poi utilizziamo un bendaggio compressivo, quindi fatto come diceva il collega da mani esperte, oppure una calza compressiva nelle fasi più avanzate. Una volta che il paziente ha finito questo periodo intensivo di trattamento a casa, può continuare con la presso terapia domiciliare e con i pressidi compressivi come le calze elasto compressive di cui abbiamo parlato. Senta, visto che si parla di distretti per quanto riguarda anche il gambale, ma il gambale arriva in alto, bisogna indossarlo tutto o ci sono dei gambali per i piedi e c'è tra anche? Allora, con la presso terapia l'indicazione è quella di utilizzare il gambale interamente, quindi va calzato assolutamente interamente, proprio perché esplica la sua azione. Quindi dall'alto, dal basso all'alto. Sempre per riportare i liquidi, per scaricare, diciamo, il sistema lì. Allora, guardiamo... Salve, mi chiamo Leona, da due anni mi è stato diagnosticato l'infedema e l'ipedema. In questo caso la presso terapia è consigliata? Grazie. Sì, assolutamente lo è, chiaramente la valutazione, tutto quello che abbiamo detto, resta assolutamente valido, però la presso terapia si utilizza in questi casi. Bene, prendiamo un'altra telefonata, Rosanna. Pronto? Buonasera. Buonasera, benvenuta, da dove ci chiama e come si chiama? Grazie, io chiamo da Montedeluna e sono sinametaldina. Volevo fare una domanda. Prego. Io mi è venuto su un'ipoma grassa quattro mesi fa su linguine intramuscolare. Volevo sapere un po', perché il medico mi ha detto che può venire anche su una trauma. Volevo sapere che indica o no questa cosa. Bene, grazie. Grazie. Anche in un punto un po' particolare, tra l'altro. Beh, qui andiamo un po' oltre l'infema, questo è un lipoma, quindi l'ipoma è un accumulo di grasso, per cui questi sono, se da fastidio, oltre che dal punto di vista estetico, anche dal punto di vista clinico, cioè se genera dolore o fastidio o infiammazione, eccetera, con la chirurgia si può rimuovere, ecco, quindi facilmente. E questo è giro un po' dal discorso dell'infema che ha tutta altra etiologia e origine. È diverso, sì, ma rassicuriamo anche questa cosa. Sì, sì, assolutamente, è una cosa che se crea fastidio o estetico o clinico, entrambi, può essere tranquillamente rimosso per via chirurgica con un piccolo intervento ambulatorio. Sì, quindi anche se poteva essere causato anche da un trauma, anche quello. No, non credo, un lipoma da un trauma. No, di solito no. Sono accumuli di grasso che vengono, sì, sì. Allora, io volevo fare questa domanda al dottor Gervasoni, quanto impatta sulla qualità di vita del paziente? Allora, però, per fare questa domanda vorrei avere questa slide qui. Sì, e da là si capisce quanto impatta. Quanto impatta? Eh, impatta, impatta. Abbastanza, direi. Qui siamo oltre. Sì, sì, l'infedema, qui siamo in casi estremi, fortunatamente nei nostri centri oggi non ne vediamo in evoluzioni fino a questi livelli. Però è proprio così importante. Vediamo quadri importanti, fortunatamente riusciamo a gestirli in modo molto precoce. Ma, senta, ma perché, io non lo so, forse, ma perché si deve arrivare a quel punto lì? No, soprattutto, ma perché si arriva a quel punto lì? Allora, l'evoluzione dell'infedema prevede che a un certo punto i tessuti iniziano proprio a cambiare consistenza, si forma una fibrosi dei tessuti e quindi il circolo diventa vizioso, li peggiora ancora l'accumulo di fluido, i volumi diventano importanti, cambia proprio la struttura dell'arto, quindi lì diventa veramente difficile trattarlo. Purtroppo esistono anche nel nostro paese delle situazioni dove l'informazione o l'attenzione del paziente nel rivolgersi al medico. Ma questa è un po' anche l'obesità che porta a questo. Chiaramente ci sono molteplici possibili cause. Adesso non lo so che presso terapia bisogna avere per trattare una cosa del genere. No, beh, direi che quelle non sono situazioni che possono essere assolutamente trattate. No, diciamolo perché alla fine... Assolutamente no, come diceva... Prendiamo un'altra telefonata, l'ultima. Pronto? Pronto? Sì, buonasera signora, benvenuta, da dove ci chiama e come si chiama? Io mi chiamo da Padova e mi chiamo Franca. Benvenuta Franca, faccio pure la sua domanda. Ecco, allora, io soffro di tanti capillari sui piedi, sono cose ereditarie. E poi, voi conoscete che cos'è l'osso dello sperone? Mi date una risposta, per favore. Volentieri, grazie. Grazie, grazie tanto. Buona saluta a lei. Dottor Camporese. Io parlo del capillare, lui parla dello sperone. Certo, il pane per i suoi denti. Ma i capillari a livello del piede, del malleolo, che in gergo è la corona flebectasica, come si chiama, possono essere o semplicemente dei capillari della telendectasie che la signora ha per conto suo costituzionali, o possono essere espressione di un'insufficienza venosa, magari in fase iniziale, non conclamata con delle varici vere e proprie, ma può essere un segnale iniziale di un'insufficienza venosa. Consiglierei alla signora, se non l'ha già fatto, di farsi un ecodopero venoso. Di venirla a trovare. Di farsi un ecodopero venoso e quantomeno esclude che quella manifestazione possa essere un'insufficienza venosa. Certo, certo. Prego. E per quanto riguarda invece lo sperone calcaneare o la spina calcaneare, che è un'altra problematica molto frequente, e questo, nella maggior parte dei casi, è sinonimo di un piede che non appoggia correttamente al suolo. Quindi, camminando nel modo scorretto, il piede molto spesso prona, quindi tende a piattirsi sul suolo, dà dei sovraccarichi e si formano queste escrescenze osse che vanno a dare fastidio e possono diventare dolorose. Quindi, in quel caso, oltre alla valutazione con il collega, anche una valutazione con un fisiatra o con un ortopedico, per valutare il piede e eventualmente correggere l'appoggio del piede al suolo, può favorire, risparmiare questi dolori, come le fasciti plantari o i dolori legati alla spina calcaneare. Le fasciti plantari sono fastidiosissime. Altra slide che ci serve per capire di cosa stiamo parlando anche questa sera, l'infedema, altri soggetti che soffrono di questo. Guardiamo quella fotografia, praticamente in fondo a sinistra. Mamma mia, io non lo so, non riesco a capire perché si arrivi a quei punti lì. Ma no, va bene. Beh, mi avrebbe intervenire un po' prima, eh. Oggi abbiamo gli strumenti e le competenze per iniziare molto precocemente questo tipo di attività. Quindi rinnovo l'invito, ecco, chiunque abbia subito un intervento chirurgico come quelli di cui abbiamo parlato, se l'arto si presenta gonfio, pesante, fare subito una valutazione. Oggi abbiamo parlato anche di ecografia. Con l'ecografia riusciamo a identificare fasi molto precoci di l'infedema, quindi trattarle con successo da subito ed evitare evoluzioni così spiacevoli. Non aspettate, non aspettate, dopo il troppo tardi, quindi facciamo un semplice ecodopler, un'ecografia. Ecodopler aiuta quantomeno a escludere le sue situazioni che possono aver generato l'edema. Allora, Toro Zennaro, abbiamo capito che questo tipo, la presoterapia, può essere presa e portata a casa. Ci sono delle controindicazioni e quali possono essere? Allora, le controindicazioni ci sono, sono quelle legate, si è accennato prima, a stati infiammatori, a infezioni. Sicuramente sono situazioni che non devono essere trattate con la presoterapia. Solitamente le indicazioni che ritroviamo poi correttamente esposte nei manuali d'uso dei dispositivi sono quelle, ad esempio, di non applicarle in portatori di protesi, quindi se sulla zona di trattamento vi sono delle protesi, in bambini, quindi ovviamente la valutazione... Ma, se ne, bambini da che età a proposito? Beh, allora, lì la valutazione sicuramente poi spetta allo specialista, però diciamo che il fabbricante solitamente indica quantomeno fino al completamento dell'età evolutiva di evitare dei trattamenti, o quantomeno di riferire al medico curante che ovviamente poi sceglie il percorso. Grazie. Siamo alla fine, leggila. Allora, Aliona, che ce l'ha scritto prima, dice sull'alimentazione è fondamentale. Ci sono degli alimenti assolutamente da evitare per il linfedema? Purtroppo sul mercato non ho trovato libri a riguardo. Grazie. Velocemente, eh? Sì, ci sono dei percorsi nutrizionali specifici, lì bisogna farsi inquadrare da un nutrizionista, capire di che tipo di linfedema stiamo parlando e di quale patologia lo ha generato e seguiti da un nutrizionista è assolutamente importante prevenire. Forse lì dove c'è un'obesità, credo, insomma la prima cosa è dimagrisci. Assolutamente. Anche la carezza di proteine può portare l'albumina, ad esempio, un led emana sarcatico classico è proprio... Grazie, grazie. Allora, abbiamo chiuso anche questa puntata. Sì, il tempo è volato. Quindi ricordiamo. Offriremo poi un omaggio ai nostri ospiti offerto da Castiglioni Roma. Salutiamo anche Marco della sua generosità. E andiamo a ringraziare gli ospiti di questa sera. Ringrazio il dottor Matteo Zennaro. Grazie a voi. Ringrazio il dottor Fabrizio Gervasoni. Grazie, grazie a voi. E ringrazio il dottor Giuseppe Camporese. Grazie a voi ancora per l'invito. Allora, noi ci troviamo. Allora, prossima puntata è un argomento molto interessante, perché parleremo di rughe e postura. Vi ringraziamo e salutiamo Martina, che avremo con noi settimana prossima. E ovviamente, cosa diciamo? Buona salute a tutti. Buona salute a tutti e buona festa delle donne domani. È vero, auguri, auguri Alessandro. Grazie. Questo programma è stato offerto da Confimi Industria Sanità, Salus Water, Antenore Energia, Exifarma, Taupatch, Human Upgrade Device, Hitech, Medical Division, Orto Medica, Ricerca e Sviluppo. Con il patrocinio di FING, Federazione Italiana, Medici e Medicina Generale, FIMP, Federazione Italiana, Medici Pediatri, SMI, Sindacato Medici Italiani, Media Partner, U-Med, Abbigliamento e accessori di Castiglioni Roma, Caramelle, La moda per tutte le donne, Arnia, Le scarpe artigianali. Sulle ali della salute è una produzione PROB, Operazioni Marketing. Si ringrazia, Ristorante Simon's Distro Padova. Bec. O che risaliamo con l'importanza cheorit' si fa ��a questa particolare su mondiale,